Queste sono anche figure molto diverse. Selezionate sulla base dei suggerimenti di coloro che già è il loro contributo al mondo della moda. Nella lista essere influenzati come quello della moda, le categorie in effetti raccolgono direttori. Creativi. Modelli. Imprenditori. Ma anche attori e attrici. Professionisti dei media. Amministratori delegati. E, come abbiamo detto, tra le nuove voci ci sono italiani non solo Sabato de Sarno. È stato ampiamente trascorso negli ultimi giorni per la sua prima parata. Segna un cambiamento immagine ed estetica rispetto al corso svolto dal suo predeceracer Alessandro. Michele. Ma anche Luca Magliano. La designer italiana ha fondato marchio abbigliamento maschile nel 2016. Porta il suo cognome. Vincitore lo scorso giugno un premio LVMH 2023 e lo stilista italiano Camille Miceli. Direttore creativo della Pucci Maison. Tu loro vengono aggiunti. Modello d'Ara Guai. Senegalese con base a Milano. Tra i nomi del premio del modello dell'anno 2022. Dieci anni fa abbiamo deciso identificare le persone formano l'industria della moda globale. Riconoscendo coloro che guidano la rivoluzione con la loro eccezionale innovazione e creatività. Afferma I.M.R.A.N.A.E.D. Direttore e fondatore di B.O.F. iniziando da questi 500 nomi. Abbiamo ampliato i nostri indice per includere talenti entusiasmanti, rappresentano più 70 nazionalità. L'esperienza. Tenacia spinta combinata della classe B.O.F. 500 del 2023 sono davvero stimolanti e ci mostrano come si intersecano moda, gli affari, cultura, tecnologia. Siamo lieti di accoglierli tutti in la nostra comunità globale. L'elenco. Nato a settembre 2013. Oggi ha 1193 persone. Che vivono in 45 paesi diversi. Appartenenti a 8 diverse categorie professionali designer. Manager. Venditori. Imprenditori. Creativi. Media. Modelli e musici. Catalizzatori. Ecco i 100 membri del 2023-2023 designer. Tra cui il creativo Louis Vuitton Mance Farrell Williams Creativo Gucci Saturday De Sarno Artistico. Curregis. Nicolà Di Felice. L'artistico. Pucci. Camille. Miceli. Ala Ali. Rami. Cecilie. Bansen. Bianca. Sonders. Chico. Costadododo. I cofondatori. I. E. Adrian. Norris. Edwina. Forrest. 25 modelli e muse. Tra cui i musicisti di New Jeans. BTS. Bad Bunny. Doia. Kat. Burno. Boy. Carol. G. Margot. Robby. Anataway. Gli atleti Hector Belliren e Lewis Hamilton. L'influencer. Emi Rocco. 11 catalizzatori. Tra cui vicepresidente senior del Dubai Design Design District. Kaia Al Bastaki. Il fondatore di Harlem's Fashion Raw Brands of Daniel. Fondatore della Bet Model Management. Elisabeth Isiorola. Fondatrice dell'Or Foundation. Liz Ricketts. Partner. KCD. E amministratore delegato. Rakhna Shah. 11 creativi. Tra cui direttore della moda Imru Asha. L'artista Laila Gohar. La parrucchiera Sindia Harvey. La. Truccatrice Valentina Lee. Il direttore creativo di D Magazine Jakob K. Il fotografo Gabriel Moses. Fondatore dello studio Crosby. Harry Nureyev. 5 imprenditori. Tra cui cofondatori. Love Bonito. Rachel Lim. Dione Song. I designer. Toteme. Elin Kling. Karl Lindmanil. Fondatore de.